Continua la moria da trasferta per l'Unieuro Forlì. Certo l'impresa era ardua d'Udine, forte delle ambizioni playoff di cui si nutre, ma se per tre quarti gare romagnoli hanno comandato, sono crollati nuovamente nel finale. Out Bonaccini, l'ultimo periodo è condizionato da un pesante score realizzativo di appena 6 punti. Abbiamo fatto un'ottima partita per almeno più di 30 minuti, siamo stati in vantaggio tanto tempo, pur con un roster limitato abbiamo allungato le rotazioni con quelli che sono i nostri nono e decimo giocatori, di più non potevo che per la squadra, orfano di Bonaccini, quindi credo che i ragazzi hanno fatto appieno il loro dovere, hanno rispettato il piano partita, sono stati veramente bravi a coinvolgersi e passarsi la palla, l'unica roba che nel momento che contava, la difesa molto fisica, secondo me oltre il lecito, più delle volte, secondo me o apparteniamo ad un altro livello di campionato oppure c'è qualcosa che non funziona. Dovremmo migliorare, essere più bravi a evidenziare certi contatti, però ci vorrebbe fare secondo me un pizzico di didi di così, secondo me da rivedere alcune cose.